Adesso abbiamo capito che il sindaco di G9 è sempre molto legato al sottosegretario della presenza del Consiglio dell'Annuntis perché ogni cosa che gli dice lui fa e questa è una nostra entratura alla regione non avendo rappresentanti. Sicuramente Umberto è un punto di riferimento per l'intera provincia di Teramo, è un mio amico personale, una persona con il quale abbiamo stretto un rapporto di collaborazione ormai da tempo. Umberto ha detto bene, il direttore, tutto quello che mi ha detto ha fatto e addirittura ha fatto anche di più perché le risorse destinate al porto di Giulianova sono 3 milioni e 800 mila euro. Tu te ne aspettavi due però? Io me ne aspettavo due perché erano mesi che trattavamo secretamente io, Umberto, il presidente della regione Marsiglio per una cifra vicina ai 2 milioni di euro. Quando ieri sera mi ha chiamato Umberto e mi ha detto che i milioni erano 3,8, quasi non ci credevo perché un così cospicuo finanziamento non arriva a Giulianova da tantissimo tempo. Voi era fatto che iniziamo in Porta Italia? Sì, noi abbiamo condiviso un percorso insieme. Adesso? In Porta Italia? Forza Italia. E tu? Io sono civico. In attesa di? Beh, vediamo, vedremo. Dai, io sono del parere che non è la bandiera che fa la buona politica ma sono gli uomini che fanno la buona politica. Quindi vediamo un attimo che percorso fare, sicuramente lo faremo di pari passo, capiremo quelle che sono le esigenze dei territori. Grazie. Grazie.